allora ragazzi faccio vedere una cosa queste qui sono barche di 2500 anni fa quando i greci navigavano e solcavano i mari del mediterraneo con queste barche immaginate no che all'epoca dei come si chiama degli egiziani tutti quanti prendevano e spignevano capito mezzo al mare tutti qua immaginate se c'è caricati i blocchi i blocchi questa si sforna subito i blocchi di granito più o meno questa è una riproduzione di come erano più o meno le barche anticamente capito ragazzi quando cazzo andavano cornilo con questa roba qua ma fate di serie poi questa c'è a 2500 anni questo modello qua immaginate immaginate che cazzo le barche del merda ci avevano 5000 anni fa che poi dicono 5000 che quando poi come ho detto le piramidi sono molto molto più vecchie perciò non diciamo puttanate capito e qui stiamo in grecia e la grecia diciamo una civiltà un po come quella di roma che sono nate un po più o meno stesso periodo grecia atene roma più o meno anni stessi anni perciò di che cazzo parliamo ecco avete visto che roba c'è incredibile ok ciao rega